Ieri pomeriggio, giovedì 6 settembre, presso la sala consigliare del comune di Fori del Sannio si è tenuto l'evento di presentazione del progetto Scuola Calcio ASD Forulum 2018-2019, rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 5 e i 17 anni, categorie Pulcini, Allievi e Juniores. L'importante iniziativa, unica nella regione molise, è ottenuto l'affiliazione alla Scuola Calcio del Carpi e del Polo Giovanile FC Carpi Academy di Modena, compagine professionista militante nel campionato di Serie B nazionale. Presenti all'evento, oltre al sindaco del comune di Fori del Sannio Roberto Calabrese, il delegato provinciale della FIGC di Sernia Nino Rossi, il presidente dell'ASD Forulum Salvatore Mazzocco e il responsabile della Carpi Academy Francesco Falconetti. Un'importante iniziativa al sindaco. Allora, oggi la presentazione di questo importantissimo progetto sportivo, la Scuola Calcio della SD Forulum ha una storia lunga, ha formato in questi anni, negli ultimi anni, insomma, grandi giovani calciatori che stanno crescendo e adesso hanno questa opportunità straordinaria di avere come tutor una squadra di Serie B, addirittura il Carpi FC e la Scuola Calcio è affiliata, l'unica in Molise, all'Accademy del Carpi Calcio, squadra compagine che milita in Serie B. Sarà un'occasione tecnica, ma anche aggregativa, straordinaria per i nostri ragazzi. Alla scuola parteciperanno circa 70 giovani di varie categorie, poi tecnicamente, insomma, il presidente saprà indicarvi meglio le aspetti tecnici. È una grandissima opportunità per Forli di promozione e di partecipazione di tanti ragazzi. Ne siamo orgogliosi e voglio ringraziare, voglio approfittare per ringraziare la società sportiva, nella persona del presidente, ma di tutti gli animatori di questa realtà sportiva e associativa importantissima, ma in particolare Felice De Chiara, Pasquale, insomma, tutte le persone che partecipano attivamente all'attività della sede di Forlum. Da Carpi nel Molise, quali le novità? La Carpi Football Academy è la terza branchia del Carpi FC 1909 che si occupa della società di lettantistica in Italia e all'estero. Io, come responsabile di zona dell'Abruzzo e del Molise, sono qui a fare la presentazione della nuova affiliata Forlum Forli, dove il responsabile è Felice De Chiara, con cui ho iniziato a collaborare da diversi mesi. Siamo giunti a questa giornata in cui ci sarà la sigla del contratto di affiliazione di gemellaggio, dove questa società sarà un punto di riferimento della provincia di Sernia e anche del Molise, dove avremo anche un'altra affiliata nella provincia di Campobasso che è Petacciato, Sporting Petacciato. Questa affiliazione consiste nella possibilità di avere i nostri tecnici presenti nel territorio, a formare i tecnici delle società affiliata, avremo degli eventi per le scuole a calcio e per le fasce dell'agonistica, dove potranno partecipare a Carpi sia alla visione di una partita e la sfilata, e quindi il giorno dopo vivere una 24-48 ore di Carpi e fare esercitazioni sul campo, mentre per i giovanissimi e gli allievi ci sarà la possibilità di sfilare i coetanei della società professionistica Carpi. Faremo anche dei raduni scouting qui in Molise e veresimilmente il raduno molisano verrà fatto proprio su questo territorio.